Ciao a tutti ragazzi, sono FM Production, bentornati sul mio canale, sono qui con Marco e JMM Entertainment, siamo qui nella Color My Face Challenge, praticamente la challenge consiste nel, ognuno ha dieci domande sul telefono o in testa e praticamente se la pone a un avversario, si sceglie e se lui non sa la risposta cominciamo colorandogli un po' la faccia con questi bel penarelli, sottotitoli in italiano, con questi penarelli e pian piano che va avanti aumentano i segni sulla faccia, se uno sbaglia cinque domande gli coloriamo la faccia, poi andrà su questa girella che vedete qui che gira e quando soterà fuori intontito per terra nell'erba, alla fine di tutto tutti e tre andiamo in giro per il paese. Allora comincio io con la prima domanda e la faccio al signor JMM Entertainment, la domanda è quando è nato Yu-Gi-Oh! anno? Ah porca porca, 99? No, fai lato, 96! Ti scrivo! Come si scrive? Oh! Ah ho capito! Cosa? Yu-Gi-Oh! Sì! Cosa è? Negato! Prenditi! Ne... Ga... Ga... Do! C'è Marco? Siiii! Eh perchè il premio Oscar si chiama Oscar? Perche l'ha inventato Oscar? No, sbagliato! Ha ha ha! Il colore... Perche? Perche... Perche si... Perche... Perche somigliavano certo a Oscar parente di una delle prime persone che videro la statuetta Oscar! No! No! No, no... Un pene! No, no... Il gatto dov'è? Non è una parruccia Un occhio Il terzo occhio Cos'è? Illuminati con firme Un giro di... Ok, tocca a Marco A me è sicuro Domana sul tabellino Nooo 12 per 8? Che maledetto! 8 per 80 8 per 240 No, non so Io sarò a casa Non so Allora Per 10 fa 80 Poi 8 16, 24 240 96 Allora Adesso tocca a me Allora L'unità Qual è l'unità misura della corrente elettrica? No Coloriamolo Ciao Ciao Ti ho fatto un coso ultimo Se ne sbattiti nel cuore Tocca a te adesso Qual è la percentuale totale dell'acqua dolce? No, non so La percentuale totale dell'acqua dolce Quella invece è la percentuale totale di acqua dolce? 60 60 Quanto? Io so Colorami dai Colore? Ma immagino È rosso È rosso È vero di più A meno Questa si vede di più sulla mia faccia Sì, è rossa e verde Le cose che si vede di più Ah, si vede di vero Questa non c'è il cerchio Guarda Occhi No Cosa sono? Non ho niente di più L'acrime L'acrime Eh, finca parte 69 Stupendo Tocca a me di nuovo Marco Perché la scatola nera È arancione? La scatola nera è degli aerei Perché è arancione? Perché è arancione? Beh, perché è arancione Sarà un Arancione Arancione Si vedrà meglio Hai indovinato? Adios No È perché si vede meglio se è arancione, no? È una scatola nera ed è arancione Perché nei disastri la vedi meglio Johnny Qual è la capitale dell'Austria? Sì Cos'è? Sì 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 Come ho fatto io Ah No Non sta a farlo perché se no la toglia E giro Non sta a farlo sull'occhio No sta a farlo No la faccio l'acqua tranquilla Boh Quanta sacqua serve per produrre una lattina di coca cola? Dipende Ah no? Eh boh dipende Una lattina da 33? Eh da mezzo litro Eh Ah no Solo 35 centilitri 35 centilitri 0,2 No da non solo 35 centilitri Boom Comunque una lattina tipica di coca cola 0,2 200 litri Per una lattina Tira sulla testa Vieni qua vicino a mezzo Non è niente Eh Marco Ma so Tira sulla testa Però mi hai un bel disegno Due tette Bravo Dai bello No 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 Unendo questi più colori Cosa hai? Che colori hai? Arancione Bravo Bravo Tocca a me Marco Marco Con quali paesi confina l'Italia? Svizzera Si Austria Si Io posso stare No no Eh 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 Francia, Slovenia, Svizzera, Austria, lo stato della città del Vaticano e la repubblica di San Valente Città del Vaticano Il Vaticano Domanda Marco versus Giovanni Adesso siamo nel 2000 Che secolo era fra il 1900 e il 2000? Via con la domanda Qual è il continente più arido della terra? Africa L'Antartida Eeeh Oh sembra incredibile visto che... Oh ma è un deserto freddo Oh ma è un deserto freddo Davide Oh che rosso A me lo so Mi fa fettidietro Russi Da che cosa derivano le montagne russe? A lui Cioè prima delle montagne russe... Ah chi? Non è una cosa io Johnny E che cosa derivano le montagne russe? Cioè che cosa c'era prima delle montagne russe che vedi adesso? Cioè il modello iniziale Cinco Quattro Tre Tre Uno 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 Dos Erano tipo delle pizze di neve Di ghiaccio E ci andavano con i bob no? Ah beh E poi le han fatte di ferro Noi pensavi che forse che... Sai quelle che vedi nella miniera una volta e vengono i tritoni Oh no Quanta acqua sprechiamo in medio ogni volta che ci laviamo i denti? Un litro 7,5 litri Ah 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 Quelli Colore? Allora Chi ha inventato la pizza? Nove Otto Otto Sette E gli altri E gli antichi egizi Sì Allora adesso ultima colorazione Per fare Napoli E poi giri Anche io potrei fare Napoli Dio Eh la penitenza di Johnny Dio Vedo sul ferro Chiedi qualcosa dietro nella schiena che ti fa male Giri Chiedi qualcosa che fa male Per fare Sì, adesso buttati! Andi! 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 Troveremo ben! Ciao!